ciao elena siamo qui con mary ciao conto da 5 a 1 5 4 2 come la vedi allora lei arriva camminando di fianco come se fu arrivasse di fianco è che si siede su un cubo di plastica bianco aspetta di vedere che cosa cosa c'è davanti a lei ecco ci dà l'autorizzazione sì 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 come dice proprio aiutami a vedere ok c'è in piedi e per la sua sinistra che guarda lei guarda lei come reagisce a quello che vede ma come la guarda fidenza separato no 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 è interessato a alle sue reazioni nella speranza che siano molto costruttive per lei ecco c'è quello che vede no quindi è come se volesse assicurarsi che le comprenda pieno ci sono i figli i figli adesso sono entrati nel cinema si sono seduti davanti il piccolo più più aperto in maniera neutra a quello che che gli mostreremo il grande un po più come se pensasse vabbè le solite cose strane della mamma ecco più o meno comunque sta ok vuole venire qualcun altro il corteggiatore sì come vedi lo vedo con una divisa quasi come se stesse recitando un ruolo della sua divisa quindi diciamo quale ma sono forze dell'ordine e quindi con un atteggiamento diciamo di molto impostato no quindi diciamo che la usa come maschera per non mostrare quello che in realtà cioè come se avesse paura di mostrare quello che da uomo prova utilizza la maschera per diciamo la divisa per coprire quello che in realtà è e cosa in realtà molto di lui si sente debole e insicuro e con la divisa invece riesce a essere più impostato più utilizzare diciamo gli strumenti della divisa per difendersi tra virgolette dalle eventuali emozioni che possono che lui pensa che possano essere di sofferenza entro nel cinema se 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 tutto in mezzo vede i figli di mary ma sì ci interagisce o no 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 si è seduto in mezzo e sto lì fermo non fa niente va bene vibrazione di mary 12 miliardi percentuale di consapevolezza 128 percentuale di parte subliminale rispetto alla parte eterica 39 61 vite precedenti 1825 cervello 9.3 entità eteriche se ci sono prima che appare questo tipo un drago con tutto triplicato nel senso tre teste tre braccia cioè sei braccia sei gambe e tre code mostro ma poi c'è un leonide aspettare uno è del primo universo secondo poi c'è questo leone che è un leone sembra molto elegante seduto come si siede nei leoni però la cosa strana è che ha la cresta che non va in su ma tipo che punta in avanti no come se fosse pettinata in avanti ed è di colore rosso c'è una differenza solo questo ma è molto importante poco importante a causa di questo crei nera no quello che mi viene da dire che come se avesse come se questa criniera la utilizzasse sono strumento ecco per far cosa come per interferire su mary in che modo come se come se rispetto a un leone di norma ci vediamo di solito ok che invece lo vedo proprio agire in maniera molto frontale utilizzando proprio i denti no e ruggito lui invece utilizza la criniera rossa quindi quasi come se volesse essere più meno visibile quando agisce poi che c'è poi c'è una mantide che però ha una coda da sirena no perché bene dal mare allora vabbè metà c'è metà ibrida direi nel senso che la metà metà tna è come se utilizzasse la coda da sirena per dare dei colpi colpe di coda più aggressiva rispetto a una mantide che agisce solo in maniera più sudola lei è più aggressiva più frontale questa antide poi e poi ci sono tre piccoli scorpioni neri come i tre piccoli porcellini lì dove mi fanno vedere direi inferi nel senso mi fanno vedere queste specie di sfere sottoterra di roccia nera sassi neri secondo universo ma si fanno paura ti fanno paura e chiudiamo qua andiamo a piangere nel cascino del letto ma poi c'è basta e ti richiede basta mentre il red 3dl entità mentali appare molto grossa questa città mentale 7 che è quella della bulimia posso aggiungere una cosa che è come se fosse arrivato adesso c'è un uomo del tempo che non interferisce più meri ma è come se tenesse d'occhio perché non la interferisce più quando ha smesso ha smesso potrei dirti mi viene tra due tre settimane fa quando lei ha detto che è come se si fosse tolto come se avesse visto di nuovo tutto come funziona si è sganciata dall'uomo del tempo le difficoltà nel prenotare sono legate all'uomo del tempo allora uomo del tempo e si vede principalmente uomo del tempo le in collaborazione con la mantide però si tutto quello che le è successo con l'ultimo col lavoro che sta facendo all'inizio no tutto quel percorso lì era molto interferito dall'uomo del tempo direi che la tipologia di lavoro con il compagno li può far crescere evolvere c'è più che la tipologia è che loro lavorano fa costruiscono qualcosa assieme ok li fa evolvere molto più velocemente e quindi tutti gli ostacoli e le interferenze sono state messe per questa ragione bulimia è sempre stata 7 quindi anche dovuto entrata vedere a 7 o cosa c'è stato un periodo che era 9 e e direi non tanti mesi non è durato tanti mesi a 9 scusate però e ok è singolare che parli di bulimia e infatti 9 9 per 9 intendo che lei ha rischiato di morire per questa per questa cosa in quei mesi la un po di anni fa un po di anni fa adesso è 7 perché fatto che lei ogni tanto riesce a sganciarsi ok come se tutte le volte perdesse forza ok quando entrata allora la prima volta dici è nata con la bulimia sentita mentale no 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 la vedo collegata allora mi fa vedere lei che alla che porge diciamo il seno al suo figlio è come se da dietro lasciasse scoperto tra virgolette una parte e pulimi riesce a entrare il primo secondo io direi il primo è allattato nome era il primo ho tentato di allattare forse non è riuscito mese a fatti ok che non sono tutto il periodo giusto quanto è quanto ha detto a mesi per tre mesi non è più di tre mesi che è salata però se si seconda avanti tanto messo di allattarlo per colpa della sì vabbè vediamole tutto e poi comunque adesso ma attendiamo sulla bulimia poverina l'entità mentale 2 la seconda hai detto treno si sono 33 entità mentali allora sì allora ce n'è una di livello 2 e una di livello 4 allora quella di livello 2 è come se utilizzasse degli espedienti esterni per negativizzare il suo stato d'animo e renderla insicura nel senso anche quello ma anche se si diciamo che si rispetto al ristorante e alla parte economica è come se le rendesse i pensieri negativi per renderla insicura ok come la chiameresti l'antità ambientale 2 morti c'è verso il basso l'immagine che mi appare come se aprisse un piccolo varco dove mary viene se guarda viene risucchiata verso il basso entità 4 sì allora entità 4 allora legata in parte non so perché mi fa vedere questa cosa è legata in parte a quello che lei al corso che lei sta facendo allora lei potrebbe in maniera molto neutra utilizzare quello che sta facendo soprattutto per sé che il suo compagno e per i suoi figli vedo che può essere una buona degli buoni dei buoni strumenti per tenere sempre le vibrazioni alte e sistemare diciamo dei malesseri o cose così che capitano a loro ok ma sapendo questa cosa questa entità di livello 4 fa sì che come faccio a spiegarti allora vedo questa immagine qua allora c'è questo inter livello 4 che si collega alla sua predisposizione a utilizzare gli strumenti che vengono insegnati ok e mentre li utilizza è come se bloccasse l'energia e gliela facesse vedere non esattamente come dovrebbe essere come la chiameresti trasformatore energetico impianti di amore c'è una specie di cappello fatto raggera quindi con un cerchio sotto e si unisce sopra al centro all'interno della testa e si illumina ogni volta che dell'entità mentali devono agire poi quindi un impianto mentale sì quello è mentale poi c'è un disco più un po sopra il plesso solare diciamo dietro lo sterno che come se fosse come se lo aprissero allora rimane chiuso e poi aprono questo disco e esce un collegamento energetico con questo posto dove le vengono fatte le abduction cioè vedo come se ci fu come se si creasse un raggio di luce collegato a questa navicella potrei dire poi ci sono degli anelli intorno alle dita l'ultima falange e sono collegate dei cili che vengono utilizzati per muovere meri tra virgolette basta nome del progetto di meri traslazione vibrazionale allora vedo proprio che quanto soprattutto quando le fanno le abduction è come se sta cercassero di staccare la sua parte vibrazionale la mettessero lontana da lei c'è il tentativo e quelli separare le due parti rendere diciamo il corpo più un auto ma senza la parte vibrazionale solo che non riescono a separare la ps dal corpo quindi lo vedo molto inefficace questa questa cosa che fanno qualsiasi qualsiasi trattempo il corpo vibrazionale ma è sottoposto ad abduction per andare avanti questo studio se quali sono il massimo qual è il massimo numero di abduction in un mese che ha avuto diviene 35 anni fa 24 abduction in un mese e adesso una media di due ok adesso non ricordi dalle le date ma andiamo indietro nel tempo nel tempo della vita di meri andiamo al giorno in cui incontra il suo attuale compagno che ha fatto una sessione con noi ed è il risultato essere la sua fiamma prima domanda non è ancora la sua fiamma sì in questa lunga attesa della tua risposta ma era tipo perso 80 anni si sono fiamme si vede un tentativo di distacco e come è strano è come se ci fosse un bordo una parte del diciamo della loro unione ok con un bordo un pezzo di bordo separato no che il rimanente di quello che del tentativo di distacco che c'è stato da parte di uomo del tempo dire uomo del tempo insieme al leonide e anche quel mostro con tre teste quindi l'interferenza di mary il compagno interferito in questo momento particolarmente o niente per niente no vanno e vengono secondo me quello che posso vedere che riesce a rimanere abbastanza centrato e quindi come se si accorgesse quando lo interferiscono e almeno con la consapevolezza riesce comunque diminuire la loro forza o a farle staccare non c'è niente di così di queste interferenze forti ma ne vengono ok cosa è successo cioè qual è il motivo vabbè l'ha voluto lei ovviamente però qual è la condizione che ha fatto sì che mary incontrasse la sua fiamma molti cercano la fiamma molti la desiderano in modo sbagliato molti la desiderano in modo corretto ma non la trovano perché mary l'ha trovata allora mary la trova vedo proprio questa cosa qua vedo questo incontro in eterico e vedo più l'incontro eterico diciamo per ps l'ha incontrata per 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 far sì che lei avesse di nuovo fiducia nell'amore e nella vita e nelle persone incontrando la sua fiamma non non ha potuto far altro che riprendere fiducia nell'amore e nelle persone perché tutte le volte che cercava di nuovo di proteggersi con delle scuse concretamente proprio le azioni le cose di questo incontro smentivano tutte le scuse che lei cercava di porsi come difesa quindi è stata molto aiutata ma da se stessa e se stessa ha accolto il il momento cioè perché lei l'ha trovata mettendo anche volendo degli ostacoli su se contro se stessa e da altri che non mettono questi ostacoli non la trovano perché allora la differenza è quello che vedo la differenza è il tipo di limite che ti metti nel senso la tipologia di limite lei non metteva non ha messo intenzione come faccio a spiegare questa cosa i limiti che lei si metteva non erano riferiti a l'incontro di una fiamma perché in quel momento lei non sapeva neanche che esistesse la possibilità della fiamma ok quindi erano limiti di discesa di un altro tipo ecco quando qualcuno sa che esiste la fiamma sa come esiste e la vuole creare trovare ok quella parte lì sa che esiste come se i limiti che si mette no la la forza che mette nel voler creare la fiamma diventano dei limiti che non capisco aspetta si mette senza volerlo degli ostacoli nel vivere fui fluidamente in maniera neutra nella vita con l'obiettivo fiamma è come se mettessero l'obiettivo fiamma senza vedere la possibilità di che ci siano degli step intermedi ecco va bene vedo una figura di un uomo ragazzo che non conosco che però mi fa vedere questa cosa c'è questa figura di un ragazzo che sta cercando che mi sta facendo vedere no che mi sta facendo vedere come obiettivo la fiamma ok ma vedo che è come se limitasse tutti di fluire negli obiettivi intermedi è difficile da spiegare vabbè accompagno cosa fa la guarda sempre adesso si è seduto il cinema di fianco ai figli di mary e abbraccia il più piccolo con entusiasmo dice state attenti a quello che vedete perché è molto utile interessante ma sorridente molto felice portale aureo lo apriamo tutti i parenti di mary e del compagno i nonni di mary ma in particolar modo la nonna materna il nonno paterno che pare ne avesse combinate alcune malocchi cose così allora la nonna materna arriva vestita con vestita normalmente poi ha tipo uno scialle sulle spalle e sulla testa il nonno paterno arriva vestito come se fosse un santone potrei dire che sai come si vestiva da nascimento simile il nonno paterno ha interferito come disincarnato sì sto guardando che cosa ti fanno fare e dove agisce questo suo agire è strano perché le interferenze ci sono tre direi demoni sono tre figure con un mantello nero senza una reale forma che proprio come se lo mani come se lo manovrassero da dietro ok e con queste mani fa delle dei gesti ma agisce gli fanno è come se gli facessero vedere delle immagini di persone su cui agire ma in realtà non agisce su nulla ma fanno sì che lui crede l'energia con cui tenerlo legato vick al nonno adesso come lo vedi adesso praticamente con la vick gli è caduto il mantello e con il mantello i tre demoni quindi tutto ed è tutto per terra immobile come se fossero diventati bidimensionali quindi schiacciati per terra e lui invece come se fosse una figura umana trasparente nonna materna come lo vedi e con questo scialle la vedo che in questo momento intenta lavorare a maglia è come se la vede un po girata come se non volesse darci retta piccola sala resa che che con la scusa che è impegnata a lavorare a maglia essere uguale lavora maglia per l'eternità non le diamo nessuna vick non va in nessun portale la rimedio da fare se no si prende la vick se vuole parla con la sua nipote allora con la tic appoggiato tutto i cerchi la lana tutto si è alzata da questa sedia che sta camminando verso meri e mentre cammina gli cadono diciamo tutti gli abiti della figura femminile di quel momento lì mentre cammina verso meri sì quello che dice mentre la carezza è come se si fosse come se avesse visto per la prima volta cosa c'è veramente chi è veramente meri nel senso che come se si fosse resa conto per la prima volta che cosa c'è dietro le persone dietro al ruolo al ruolo e al ruolo che hanno nella vita siamo tutti attori no lei con la picca si è resa conto che siamo attori che quindi dietro al vestito che tu porti in quel ruolo lì nella vita c'è dietro la ps c dietro tutta la persona e lei vede in questo momento meri messaggio della nonna e del nonno ameri non gli dice non fatti interferire mai più tu il tuo compagno volerete alto va bene li salutiamo tutti sono venuti anche dei parenti di lui si tutto erano 531 tra tra tutti i parenti di tutti e due qualcosa da vedere nel nei suoi parenti le prese che ha parlato di un antenato di lui o di lei di lei mi sembrano come non ricordo più contesto lo vedi allora mi è apparso contro hai detto c'è qualcuno c'è questo signore con la spada tiro fuori la spada in alto la spada vecchia sei quelli fatti con con l'impugnatura rotonda sì esatto un elsa così e dice adesso ti porto io dove vinceremo la battaglia è entrato nel portale aurono si sta andando insieme a chi chi è questo questo che è un uno zio produzi uno zio a vedi a secoli fa chi è il compagno di meri è interferito con i due con loro due vabbè non è importante va bene lo salutiamo ok allora abbiamo visto che meri a tre entità mentali una di queste e bulimia era sempre e a volte arrivano 9 la mia di meri è tale per cui oggi praticamente la tiene sotto controllo non ci pensa ma a volte è capitato che di recente che appunto si abbuffasse poi a comando senza usare mani proprio senza mani buttarsi fuori entità mentale bulimia entità mentale collettiva bulimia fuori che ne è ventata come la vedi dove sta perché l'unica che mi viene in mente bulimica era le di diana chiamano sì allora è arrivata allora quello che mi fa vedere le di diana è che era un modo per era incastrata era incastrata in un sistema che lei dice mi avrebbe portato alla morte proprio il sistema non cui era incastrata lei mangiava per vuoto e soprattutto quando si arrabbiava per tutto ciò che veniva imposto dalla tutti i reali dalla stirpe reale morta io non la vedo morta mi fa vedere che in un posto e pianziano se la vedo anche un po più la sottella mi fa vedere casa sua dove un po più tranquilla anche se per sopravvivere non evita di uscire bene torniamo a meri io vorrei come fatta questa entità mentale di meri però credo meri quella timere l'ho già vista prima è come se fosse un un turbante anche degli arabi con due parti di stoffa che scendono e questo turbante sopra meri ok quindi che la segue sempre come se fosse un'ombra quando quando la interferisce quella collettiva come se ci fossero tanti schermi di computer ok ognuno collegato a una persona che ha l'interferenza bulimia e su questo su questi schermi tutti agiscono ognuno beh per ogni persona è praticamente c'è l'inizio e la fine dell'atto no quindi io vedo vuoto senti vuoto riempiono lo sto si ma co ok proprio abbuffandosi ok poi parte il senso di colpa e svuotano lo stanco vedo allora c'è una luce tipo luce rossa e poi diventa verde sale e scende dove questa entità mentale collettiva allora adesso che mi fa questa domanda vedo che è come se ci fossero dei bracci allora ce n'è una enorme del cosmo scendono dei bracci e ad ogni braccio ci sono questi computer tutti assieme a seconda di quante persone quel quel diciamo quella parte deve raggruppare ok sono questi bracci poi ci sono queste semisfere piene di questi computer in e le facciamo una prova modifichiamo la realtà di questa entità mentale collettiva di fatto è anche nostra quindi lo possiamo fare creiamo un orgone a forma di sfera parliamo in termini spaziali che non sono l'orgone ha un raggio d'azione e raggio d'azione di questo orgone sferico e tale da inglobare tutta l'entità mentale collettiva bulimia e tutti i bracci computer quindi a un raggio d'azione molto alto come fatta questa sfera di colore blu 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 chiaro ok chi la porta la c'era da sola abbiamo creato io e te se ci va da sola nel senso che visualizziamo che ci va e si muove col pensiero in eterico in mezzo se raggruppa tutta l'entità mentale collettiva bulimia quella grossa e il raggio d'azione copre tutto poi vabbè l'orgone in una parola è la vita e la vita è quello che adesso ci interessa esperire siccome l'esperienza della bulimia è già stata fatta da praticamente non tutti quindi si chiude un disco rotto in pratica sono qui si va avanti con schierotti che succede la l'entità mentale 7 di mary così come tante altre donne e uomini si disconnette da sola cioè l'entità mentale sta diminuendo si sta restringendo ok quindi necessariamente inevitabilmente un'entità mentale deve essere connessa all'equivalente collettivo no no dipendono in questo caso sì in questo caso sì ok sì allora nel caso in cui c'è tutta quell'energia lì che è collegata a tutti quelli a questa tratta l'etichetta se invece una nasce nel cuore dell'amazzonia è un indio donna e diventa bulimica quindi non ne sa neanche cosa sia bulimia non è attaccata all'entità esale collettiva se l'è formata da sola e se la vede da sola esatta però sono rari quelli sensi almeno nel caso della bulimia di esatto queste cose grosse di solito sono praticamente tutti collegati quasi 30 che succede nell'entità mentale collettiva con quella sferona lì infilata allora mentre agisce l'energia dell'orgone proprio dove agisce ci sono scintille d'oro scintille d'oro e man mano che agisce poi si crea il vuoto in quel punto lì cioè rimane solo l'orgone ok l'energia dell'orgone e poi si crea il vuoto e quindi pian piano si sta disgregando a pezzi è come se si creassero dei tu nel vuoti man mano che che lavora lo vedi più potente l'orgone di un per esempio una d'eterno veritas o la stessa cosa allora non sono uguali è come se l'orgone fosse più dinamico nel senso che la d'eterno veritas fa la stessa cosa ma lo fa a livello di vibrazione di verità quindi smentisce il fatto che tutti devi che devi sentire il vuoto e che devi sentirti in colpa ok quindi rilego riregola le vibrazioni verso la verità ok e quindi elimina tutto e poi c'è appunto rimane la d'eterno veritas lì così l'orgone va avanti continua c'è l'energia dell'amore quindi tutto ciò che entra nello spazio di azione dell'orgone viene riequilibrato l'energia dell'amore ecco va bene sì va bene chi chiamiamo tutta la famiglia d'origine di mary nel cinema si entrano dopo essersi accertati che non verranno giudicati ma vengono sicilia chiamiamo nel cinema l'entità mentale collettiva sicilia varie entità mentali collettiva ma ogni ragione la sua le sue abbiamo già viste mi sembra una crede la sicilia c'è l'entità mentale collettiva o merta cese c'è quella religiosa spargiamo con gli organi se rispargiamo in quelle che ci sono in sicilia ma abbiamo fatto la strage di tutte le testa mentale collettive e sono tutte ma siccome mi sta sempre un po sul cazzo la religione buttiamogliela anche un po nella religione dai una bella entità mentale collettiva nella religione cattolica attuale papa no che si è fatto fuori un po di gente all'epoca di desaparecidos in argentina ha detto di moderare i regali e i pranzi di natale e di dare quello che si risparmia alla finta guerra perché non lì da lui in quei soldi e li toglie dalle sue belle tonache dalle sue belle tonache con il logo della della dell'elica triangolare che sappiamo tutti che cosa vuole il love boy perché non se ne va anche lui a dare un po di roba del vaticano alla falsa guerra invece di chiederlo a noi come quando ti arrivano le richieste di donazione dalle banche ma perché non le danno le banche tutti sti soldi se non dobbiamo toglierli a noi schiacciano il tasto vanno e dai una donazione no perché noi dobbiamo privarci soffrire e dare i soldi a una falsa guerra ma se le vado a mettere ovviamente poi c'è la signora cattolica che gli dà i suoi soldini certo bene grande alcune gigantesco lo metto io personalmente dentro l'entità mentale collettiva chiesa cattolica ok bel macigno o causa esoterica di essersi ritrovata questa famiglia con tutto quello che è successo perché non diciamo da come se avesse scelto questa famiglia per trovarsi in un labirinto pantano immagine che mi dai questa è come se ogni persona della famiglia facesse creasse il labirinto per impedirle di uscire dal labirinto ok e con sotto il pantano se non trovi la strada per uscire entri nel pantano quindi questa confusione questo casini questo non amore ma e diciamo sopravvivenza attraverso casini ecco lei aveva si era messa a due possibilità ori o esco quindi la psd ci metto tutte queste cose se ne esci poi avrai l'opportunità di trovare un'opzione dove conosci cos'è l'amore se non riesce uscirne rimane incassata nel pantano e sopravvivi anche tu con quegli strumenti e le ne uscita e ne uscita causa esoterica della sfida lavorativa che ha creato quasi una rottura col compagno sì allora la spinta loro era molto di crescita ok di consapevolezza evoluzione per loro due diciamo che le interferenze sono riusciti sono riuscite a far creare a loro due un ambiente non proprio consono dalla loro evoluzione diciamo la strada principale era quella ma si sono creati un sacco di ostacoli per impedire a loro due di volare e la causa esoterica sono contatto prima vedo proprio l'uomo del tempo con il leonide e quelli mostro la che ha messo come se quando loro hanno deciso io vedo in eterico come se avessero tre scelte di posti ok e le interferenze hanno fatto scegliere quello più complicato di posto dove lavorare si come muri si muri come attività come nome come no vabbè ma chi se ne frega del col del cos'è il caso più complicato sto parlando delle fiamme esatto infatti sto parlando di due ci ha parlato se si infatti diciamo non sono riusciti nel loro intento non sono riusciti nel loro intento e pensare per essere più tranquilli e meno stressati diciamo che potrebbero continuare su questa strada magari in maniera più leggera quello che è stato detto a mary a quelli che fanno le terapie bla bla e rete ferito raccoma che aveva qual era la situazione ma io più che un disincarnato appunto vedo questa parte demoniaca no disincarnati attaccati a lei che fanno perché loro hanno parlato di disincarnati mi sembrano se no che la trattiene no quindi tu vedi o il mostro se o la coppisco pioni l'amantide con la coda la sirena quindi sia un demone non è un eterico da demone il mostro se sese se no lei quindi la vista diciamo se se malinterpretata ma vista analizzatore puliti ecco allora allene allora gli strumenti sono buonissimi come dicevo prima ma sono mascherati allora lei quella che fa i corsi secondo me è molto potente potrebbe essere molto brava ma è interferita in maniera inconsapevole per ora secondo me quindi è proprio vedere interferenze quasi lì per vederle mettono davanti che è un disincarnato così almeno come dire un po più diciamo a livello sociale forse un po più ammorbidita la cosa no quindi comprensibile ecco per esempio oppure vedo che utilizzano altri strumenti che sarebbero ottimi se non fosse che proprio gli mettono davanti un'altra scena rispetto a quella che è reale e quindi cambiano direzione non vanno avanti nella direzione ideale per la persona come se venissero deviati in un altro corridoio quasi potrei dire infinito nel senso che come se non finisse mai e li possono collegarsi all'energia per la persona e la prendono andiamo al cluster con mary ha capito il motivo per cui è arrivato questo lavoro complicato ha capito tante cose la famiglia polimia ok come lo vedi cluster cosa cosa possiede cosa ha dentro sono tanti spazi con luce verde anche il pavimento ha una luce verde e dentro ogni spazio c'è una sfera di vetro dove ci sono dentro i contratti di ogni vita via tutto ma se completamente bianco non c'è neanche più la luce chiuso all'eterno qua creato da mary ma messo come lo vedi come l'ha fatto sì sempre questa sfera con le queste l'energia verde che poi si apre si diffonde il compagno dove tutto questo lì in prima fila al cinema molto interessato molto allora quello che posso dirti è come se il loro collegamento agisce su di lui cioè come se ci fosse un tubo energetico che li collega ok quindi mentre lei fa le cose e vive le emozioni lui le vive di riflesso se li arriva l'onda attraverso questo tubo energetico e lì con lei a casa no era al cinema però se vogliamo ci va ma devo volerlo lui non si diciamo che lui è molto discreto e come se volesse farle vivere va bene avatar lei però prezza che lui ci sia allora a volte c'è un confine un po labile tra il rispetto fai come vuoi e sì va bene ma io ci sono sottieni mi va bene cluster è andato andiamo all'avatar queste nuove sì sì all'avatar ci volano insieme sì sì ok che succede allora stanno aprendo portare decido lo apre meri ma sono sempre abbracciati apre portare definitivo prende tutta la postazione con la materia oggetta dentro penso nuova frequenza di meri era un tutto sommato rispetto su 12 loro due assieme vanno a 728 miliardi e lei da sola 341 praticamente la metà che ottimo da soli cosa vuol dire mano nella mano sì sì che non sono uniti si non sono uniti in che senso abbracciate abbracciati che diventa una cosa unica in eterico percentuale di consapevolezza 185 ps e in questo momento 78 vite 997 cervello percentuale di cervello adesso 9.9 messaggio di meri a se stessa finale si fa vedere un'immagine la descrivo e così trasmetto soprattutto riguardo al c'è mi fa vedere soprattutto in questo momento il lavoro che crea questa cosa come se lei si trovasse nel turbini o delle cose si fa trascinare in realtà ogni volta che ci sarà da fare qualcosa da oggi in poi deve sentire lei qual è la strada verso il suo benessere ok quindi agir fare la stessa cosa ma nella modalità che è verso il suo benessere senza farsi trascinare dagli eventi ma far sì che gli eventi seguono il suo flusso ecco questo era il senso messaggio al figlio piccolo che non è quello che ti aiuta giusto l'altro il grande giusto ok lo saggio figlio piccolo fatti guidare dalla vibrazione del cuore e non dalla pessimismo mentale dice al figlio piccolo al grande la fuori c'è tanto che può essere d'aiuto per andare verso il tuo benessere alla fiamma il cerchio che si crea dal nostro aggione e con un turbinio verso l'alto e se mi stai unito riusciremo andare in alto interferenze impianti c'è ancora qualcosa va bene come la vedi e adesso sono insieme che si guardano si guardano si abbracciano quindi poi non si vede più l'abbraccio ma si vede questa questo cilindro tipo ci formano tipo un cilindro energetico ok tutto pieno anche dentro e iniziano a porticare così disconnettiti da tutto tutti e torniamo